A questo proposito voglio dire una cosa, noi in ogni istante scegliamo migliaia, questo è abbastanza importante, di soluzioni e universi possibili e futuri possibili, in ogni istante con le nostre scelte individuali decidiamo qual è il nostro futuro possibile, quindi è molto importante stare molto concentrati sulle scelte che noi facciamo e stare molto concentrati su quello che avviene rispetto a queste scelte che noi facciamo, quindi ogni nostra azione decide qual è il nostro futuro e ogni nostra azione decide anche qual è il nostro presente e ci sono molti eventi che nella storia sono stati evitati perché qualcuno ha preso la decisione giusta al momento giusto, eventi di tipo anche catastrofico e anche di distruzione di massa. Grazie. 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 Grazie.